eccoci a commentare questa notizia meteoflash come possiamo notare da questa immagine satellitare dell'italia relativa alla giornata di oggi lunedì 13 siamo già interessati da una perturbazione in arrivo da ovest dalla francia questa perturbazione già nelle prossime ore del pomeriggio e in serata causerà i primi episodi temporaleschi in toscana e nel mugello anche di forte intensità ma questa perturbazione sarà protagonista tra la notte e gran parte della giornata di domani quando potrà causare episodi di forti temporali locali grandinate forti raffie di vento e temperature in temporanea sensibile diminuzione in toscana e in mugello come è rappresentato in questa cartina dove vengono evidenziati quantitativi di precipitazione che cadranno nell'arco delle 24 ore la giornata poi di ferragosto di mercoledì 15 sarà ancora caratterizzata da diciamo degli stracci di questa perturbazione tra la mattina e parte del pomeriggio poi tra il tardo pomeriggio e la sera di mercoledì ci sarà un miglioramento del tempo un miglioramento del tempo che non sarà del tutto diciamo totale in quanto nelle successive giornate tra il giovedì e il venerdì potremo essere interessati sempre da instabilità in particolar modo nel pomeriggio sempre in mugello nell'alto mugello con locali o isolati episodi temporaleschi che sempre potrebbero risultare localmente anche di forte intensità